Il messaggio è estremamente chiaro e quanto mai attuale. Signore e signori, loro presentano una straordinaria coreografia dal titolo No War. Non guerra, niente guerra. Loro sono Chiquito e Sudomiga Power! Non guerra, niente guerra. 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 Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, sì, sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 Grazie.